Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Xenoverse per Asperadastra. Nello scorso video c'è stata una lotta incredibile neanche troppo contro due Charizard mega evoluti e anche contro un mega Blastoise e quindi si sono recuperate le ultime mega pietre che mancavano per gli starter. Per la prima c'era la data Venusaur, poi siamo andati a combattere contro Raikou, quindi ce le abbiamo tutte davvero. Mancano quella di Entei e quella di Suikun, quella di Entei la prendiamo adesso, in questo momento. Ti senti pronto? Abbastanza. Vediamo un po'. Sicuramente sarà una lotta due contro due come è successo per Raikou. E poi però perché anche con Suikun? Suikun è già ammansito in una certa maniera. Però vedremo. Questo è il Palazzo del Cardinale. Questo luogo di culto di Kansiria è protetto dal Cardinale Oleandro. Ed è anche la dimora di Entei. C'era la bel faccione di Entei davanti all'entrata. Link, più avanti incontreremo il Pokémon leggendario. Diamoci una mossa e salviamo Kansiria da questo inferno. Enne si unisce. Perfetto. Metto davanti Tianlong non per qualcosa ma nel caso dovessi fuggire da qualche lotta strana. Ecco, giusto per vedere chi si può incontrare qua dentro. Gligar. Bene, ora che lo so non voglio sapere altro. Do il repellente e ce la sbigniamo. Eh, qua sarà da rifare il giochetto con... Con il carissimo Tempietto. Ah, ok. Quindi si va di qua. E si entra nel Tempio. Bene. Ah, be... Ah, ah, bello. Eh, mi sa che si va di qua, eh. Eh, sì, sì. Ah, cavoli. Ma che fortuna. Che fortuna beccarlo a primo tentativo. Quindi... O quello lì in alto o quell'altro di là... Questo, vero? Sì. Poi... Cosa? Sono caduto? Ma come? Era questo in basso. Sì. C'è la strada in effetti. Guarda qua che bellina. Ah, ok. Repellente. Ah, anche quello in alto andava... Ah, ah. Carino. Uff, si sale. Ah, cap... Perché si può scendere qui? Posso usare forza. Ah, si può... Ok, niente. Qui sotto c'è solo il passaggio per andare fuori velocemente. Ora ci siamo. Io andrei con Scovail, Rexien e Harrock. Me la sento così, Harrock, stavolta. Lo voglio provare. D'altre volte Harrock non mi ha dato alcuna soddisfazione, ma stavolta... Qualcosa mi dice che sì. Questa dovrebbe essere l'ultima stanza del palazzo. La temperatura è altissima. È come essere all'inferno stesso. Niente dovrebbe trovarsi più avanti. Andiamo. Lo è, lo è. È un po' arrabbiato, eh. Ah. Oh. Ehi. Tutti infuocato. Come immaginavo. Anche lui sembra sotto il pieno controllo dell'energia furia. Non ho mai visto fiamme di tale intensità in tutta la mia vita. E sì che ha due Charizard, eh. Oh, certo. Il classico fuoco. Non è che saremmo scappati comunque, eh. La temperatura continua a salire e non abbiamo più via di fuga. Non c'è più tempo da perdere. Forza, Link. Fermiamo Entei. E salviamolo dall'energia furia. Ci sta, ci sta. Eh, chiama in soccorso chi? Flerion? Tanto per cambiare. Sai, no. L'altra volta era Jolteon con Raikou. Ora chiamerà Flerion. Uh, un drago, c'hai. Bello. Non mica mi ricordavo che ci avesse... Tartunator. Tossina su Entei, ovviamente. Ah. Però... Magifuoco. Magari... Eh. Se potesse evitare di shottare. Gioro di sole. Perché fanno sti attacchi stupidi? Ah, Tartunator mi dispiace. Mi dispiace. Ma devo farlo. Eh, vabbè. Tartunator purtroppo con Dragobol. Meriti di morire, allora. Mi dispiace, ma te lo meriti. No, se riuscissi a settare Tossina... Sarebbe già tanto. Saremmo già a metà dell'opera. Dragonite non male. Ok, Entei, fa attacco. Rocodenti su Dragonite se la prende in saccoccia. Il dragarto. E, 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 Flerion? Non va cappò, accidenti a lui. Avanzi quel drago, va bene. Ma come ho fatto a shottarlo? Ciao, Flerion. Si picchia. Roccia calda. Ah, per aumentare il giorno di sole. Wow. Aia. Vediamo un po' se riusciamo a setappare Tossina. Ci proviamo? Ci riusciamo. Ci riusciamo! Sì! Vai! Vai, ora, bello. E se ti setappo pure il parassi seme... Sei finito. È già una vittoria! È già una vittoria! È già una vittoria per me! Speriamo che lo sia. Parassi... Parassi seme anche su Flerion. Tanto per gradire. Evita l'attacco! No! No! Non puoi evitare l'attacco! Dragonite, ora dovresti outspeedare tutti. Anche in te. Dovresti esserne in grado, ora. Ok, aumenta l'attacco. Però è ancora più veloce, eh. Ok, ok. Anche Flerion è pieno di semi. Perfetto. È brutto. Sentirlo dire. Ehm... Brucia tutto! E muoio. Però, però! Però abbiamo setappato! Abbiamo setappato! Bene. Così deve andare. Così deve andare. Allora, adesso facciamo perdere un altro turno a Dentei. Con bruciapelo. Così il veleno continua a fare effetto. Voglia, che dolore. Bene. Bene. Zuffa, se no sono lento. Ok, ok! Ok! Fai ancora grido di lotte e tu fai un'altra volta giorno di sole. Così almeno... Combiniamo qualcosa. Altruismo? Extra rapido? Ma chi ha fatto extra rapido? Vabbè, Flerion se n'è andato. Ma che sta fa Flerion ancora lì? Flerion se n'è andato. Ok. Ma... Ok. Banni però ha fatto il suo lavoro. Bene, bene, bene. Abbiamo ancora Endevar. Dovrei resistere. Dovrei. Fatta. Anche questa è fatta. Il veleno è l'arma migliore. Koga lo diceva sempre. Koga lo diceva sempre. Hai attivato il sigillo Furia. Maestro. Oh yeah. E il Pokémon Furia ha ottenuto. E anche la sua Mega Pietra. Link. Ce l'abbiamo fatta. È innamorato. La temperatura sta scendendo rapidamente. Ecco, moriamo. Direi di uscire subito a vedere se la situazione è migliorata. Andiamo. Fare un calo di temperatura troppo veloce non va bene. Sembra che la situazione si sia stabilizzata. La temperatura è tornata come prima, per fortuna. Eccovi qui. Ce l'avete fatta. Finalmente il Cansilia non è più in fiamme. È anche notte. Ma... Non è possibile. È tutto a merito di Link. Da solo non ce l'avrei mai fatta. È stata davvero una battaglia difficile. Ma la fortuna è stata da nostra parte. Muy bien. Gli incendi sono stati tutti spenti. Direi che qui abbiamo finito. Will. Maurice mi ha contattato dicendo che anche la situazione in altre città è migliorata. Direi di tornare a fare rapporti e a comunicare a Scorpiopoli la nostra vittoria. Ma... Dare due soldi alla città per rimetterla in piedi? Perché è un po' malandata a Scorpiopoli. Ti aspetto alla caserma Spettri per una grande fiesta. Ok. Adios. Addios, come dice Cannavacciuolo. Credo che sia giunto anche il momento per me di tornare a Sagittopoli. Dopotutto le mie truppe Gengar mi stanno aspettando. Avranno bisogno anche loro del mio aiuto per ricostruire il Circo Sirio. È stato davvero bello l'ho tratto fianco, Link. Chissà, magari un giorno ci ritroveremo ancora sul campo di battaglia. Ma non come alleati. Come avversari. Eh, speriamo che le spide in palestra si possano rifare. Chi è? Ah, oh, insieme a Gold. Link, ti ho trovato finalmente. Sono corso all'office per ricevere aggiornamenti sulla situazione. Grazie all'aiuto di Ruta e alla troupe del Circo Sirio, sono al corrente di tutto ciò che è successo da quando ci siamo visti. Gengar mi ha detto dove potevo trovarti. A quanto pare si è riuscito a salvare le due bestie leggendari Raiko e Rentei. Complimenti, Link. Purtroppo però l'energia furia non si è placata affatto. Anzi, una fonte ancora più potente è stata individuata a Tauronordia. E andiamo a Tauronordia. Fortunatamente sono stato informato per tempo della situazione. Ciao, Link. E' passato di tempo dall'ultima volta che ci siamo visti. Come ha detto Aster, la situazione a Tauronordia è molto preoccupante. Nulla in confronto a ciò che abbiamo riscontrato nelle ultime settimane. Le temperature glaciali stanno causando devastazione nel villaggio. Se non si agisce in fretta, tali poteri potrebbe spendersi a macchia d'olio e la regione si ritroverebbe in una nuova era glaciale. Unima, praticamente. Dannazione. Che succede? Sta andando tutto fuori controllo. E l'energia furia aumenta ogni giorno di più. Il mio tirocinante è Tauronordia e le nostre comunicazioni sono interrotte. Link, ho bisogno ancora una volta di te. Aiutami a salvare quel ragazzo. E' in gioco alla sua vita. E' quella degli abitanti di Eldiu. Ma non riesco a non pensare di aver mandato un giovane a morire. Se l'ha dovuto andare io a Tauronordia, non lui. E prova, te la risolvo io, dai. Grazie di cuore, Link. Davvero, mi ha sentito mentre dicevo che ci pensavo io. Forza, ragazzi. Non perdiamo tempo. Raggiungiamo immediatamente la città. Link, ti aspetto a Tauronordia. Preparati al meglio. Ci servirà. Sì. Già. Quindi, effettivamente, abbiamo un'altra missione a Tauronordia. Bene, bene, bene. Fa molto piacere. Prima di concludere, però, giustamente, diamo un'occhiata a questo Entei. Va bene. Il numero 462. Quale? 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 Enteite. Statistiche. Oddio, velocità 30. Non è la sua... Statistica peculiare. Ma... Ma... Magifuoco, grido di lotta, extra rapido e pietrataglio. Ma quindi, allora, è Entei che ha usato questo extra rapido su... Chi l'ho usato prima su Flerion? Boh, non ci sto capendo. Non ci ho capito nulla. Come sempre, vi d'altronte. Quando mai capisco qualcosa. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Xenoverse. Spera spera d'asta nel prossimo. Probabilmente si concluderà questo DLC. E poi ci sarà il terzo. Vedremo poi cosa c'è da fare. E poi ci sarà il Pink Pathways in tiro rosa. Ad ogni modo, vi ricordo che in descrizione trovate il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye. Ciao.